È un accordo tra le grandi case farmaceutiche, so mettiamo qualche azienda, Big Pharma, che sono d'accordo con grandi politici europei, non so, la von der Leyen, Tusk, Zingaretti, Conte ovviamente, per creare un regime di paura e far aumentare la domanda di questo vaccino per una pandemia che ovviamente non esiste, quindi in accordo col governo cinese che deve recuperare per la guerra commerciale contro Trump, che infatti invece Trump non è d'accordo su questo e sta lottando contro questo grande complotto per vendere poi questo vicino e arricchire i grandi potenti dell'elite, controllandoci poi però nello stesso tempo con il 5G che si attiva con le scie chimiche.